Fin dove ti spingeresti? Per un ideale? Per il nostro futuro? Esiste solo un'onda. Non posso affrontare tutti quei razzisti da solo. Non prova il minimo senso di colpa! Ehi, perché ne hai? Se vuoi che smettano, devi difenderti. Mi piacerebbe. Da oggi avete un nuovo compagno di classe. Vuoi raccontarci qualcosa su di te, Tristan? No. Hai presente quella sensazione? Come se vedessi tutto attraverso una lastra di vetro. A volte, dobbiamo spaccare quel vetro. Dobbiamo mettere in chiaro chi si ha e che cosa vogliamo. Alla libertà. Alla libertà. Se fossimo di più, potremmo fare più rumore. E la nostra onda si trasformerà in un enorme tsunami. Mi. Megan, e l'hanno si applica where I left off. Ma chi credi di essere? Ragazzini viziati, avete tutto da perdere. Non ho paura di niente. Non capisco più chi sono, Tristan. Io voglio solo giustizia. Ciao.